Mentre il regime di Pyongyang mostra i muscoli con nuovi test missilistici e l'attacco a qualsiasi risultato dell'autopsia sul corpo di Kim Jong-nam, persino Pechino, suo storico alleato, sembra aver perso la pazienza. La Cina ha deciso di sospendere fino alla fine del 2017 tutte le importazioni di carbone dalla Corea del Nord, ufficialmente per favorire l'uso di fonti di energia più pulite. In realtà sembra una specie di rappresaglia. Kim Jong-nam, fratellastro del dittatore Kim Jong-un, era stato ucciso all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malaisia. Secondo l'accusa della polizia, una donna aveva strofinato gas nervino sul viso del fratellastro del leader di Pyongyang. Questo mentre sono arrivati all'ambasciata nordcoreana di Kuala Lumpur, ufficiali inviati dalla madrepatria per reclamare il corpo di Kim Jong-nam. Una richiesta che resterà in evasa, secondo i malesiani, fino a quando non verranno presentate prove del DNA dei richiedenti. Il regime non parla di Kim Jong-nam, ma di un più generico cittadino nordcoreano, i cui resti debbono essere rimpatriati.